Da Lazio per uscire dalla zona calda, il Cesena per inseguire le residue speranze di promozione in Serie A. Ne è scaturito un pareggio che forse non accontenta nessuno e che ha visto però protagonisti due cannonieri in grande forma. Da una parte il solito Oliviero Garlini che porta la Lazio in vantaggio dopo soli tre minuti di gioco. Poi il primo tempo procede senza troppe emozioni fino al pareggio dei Cesenati con Agostini al 35esimo. Accademia ed un po' di noia nella ripresa. Grazie a tutti.